Ridurre al minimo le possibilità che il Covid-19 possa diffondersi. Con questo obiettivo il sindaco di Montaquila, Marciano Ricci, ha scritto al prefetto di Sernia, al presidente della regione e ai vertici di Asrem e protezione civile. Nella nota, inoltrata per conoscenza al presidente della provincia di Sernia e ai carabinieri della stazione di Montaquila, il primo cittadino evidenzia la necessità di aumentare i controlli e di attenzionare gli esercizi commerciali e gli uffici postali presenti sul territorio. Un territorio, quello di Montaquila, attraversato da due importanti arterie stradali, la strada statale 85 e la strada statale 158. Percorse ogni giorno da migliaia di veicoli e mezzi pesanti al cui interno ci sono persone provenienti da altre regioni, potenziali vettori del virus, persone che si fermano presso le attività commerciali presenti sulle statali, in particolare l'ufficio postale di Rocca Ravindola, la stazione di servizio, centri commerciali e discount. Maricci è andato oltre e con una ordinanza di stamattina ha sospeso l'esercizio del commercio ambulante di tutte le categorie merceologiche e chiuso il cimitero, salvi casi di necessità, il parco giochi e le altre aree verdi comunali. Restano inoltre efficaci tutte le disposizioni legate alle precedenti ordinanze sindacali, nonché tutte le norme nazionali e regionali, purché non in contrasto con l'ultimo provvedimento. Per quanti usciranno di casa contravvenendo alle disposizioni nazionali sarà prevista una sanzione amministrativa di un minimo di 50 euro. Il sindaco avvisa altresì che il mancato rispetto di quest'ultima ordinanza sarà punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Marciano Ricci confide infine nel massimo senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini e nella loro massima collaborazione al fine di evitare la diffusione del virus.